L'Audax Cervinara riapre i giochi nel girone D di eccellenza. I caudini di mister Francesco Messina si impongono per 3-0 sulla corazzata mariglianese e si rimettono in corsa per il primo posto. La squadra cervinarese, dopo aver colpito una traversa con Befi e un incrocio con Guarro, dilaga nella seconda frazione di gioco. E Befi a sbloccarla su un'incertezza del reparto arretrato ospite. Nel finale i padroni di casa raddoppiano sempre col centravanti e trovano la terza rete con Petrone in pieno recupero. Ora i biancazzurri di padrone Giordano sono ad una sola lunghezza dal primo posto. Quinto pareggio per 0-0 in sei partite per il Lions-Monts Militum che al final non sfonda contro il città di Avellina e clanese di Raffaele Biancolino. Un punto che taglia fuori o quasi entrambe dalla corsa alla terza piazza. La polisportiva Leone di mister Salvatore Sicuranza invece ha vinto in rimonta a Palma grazie ai gol realizzati da Ripoli e da Cerno. Una vittoria importantissima e salutare per il rosso-blu.